Ci troviamo poi con le tariffe aggiornate del ben il 15%, l'8% per quanto riguarda il 2014 e il 7% per il 2015. Associazioni dei consumatori in campo contro il caro bollette, il sistema tariffario dell'alto calore, conferenza stampa congiunta presso la CGL da parte di ADOC, Feder Consumatori e Movimento a Difesa del Cittadino. Già in passato le associazioni avevano segnalato anomalie denunciando l'esistenza di bollette pazze da centinaia o migliaia di euro. Risolto il caso, a distanza di tempo, i consumatori tornano a giudicare come inique e irragionevoli le nuove tariffe, in quanto penalizzano i nuclei familiari numerosi e quelli a basso reddito. Le associazioni raccontano storie che hanno dell'incredibile, come ad esempio quella di un signore di Avellino che per ridurre i consumi della sua numerosa famiglia è costretto a riciclare l'acqua della propria lavatrice utilizzandola come scarico per il bagno. Fatture pazze, bollette pazze, sono arrivate anche negli ultimi due anni e siamo ancora di fronte a bollette pazze, se per pazze intendiamo ritieste di pagamento di 1200-2000 euro. Chiaro che nella situazione finanziaria ed economica in cui si trova la nostra provincia, il nostro territorio, chiedere a una famiglia 2000 euro significa far impazzire la famiglia. Noi siamo esasperati da un atteggiamento da parte del Presidente dell'Alto Calore che ha ignorato le nostre richieste da un anno a questa parte di un incontro che poteva essere chiarificatore per quanto riguarda le tariffe, il sistema tariffario. Le nostre proposte sono quelle innanzitutto di ragionare e cercare di riportare le tariffe a quella che è la realtà nazionale, la realtà provinciale, chiedo scusa. La realtà provinciale non ci consente di avere tariffe di questo genere. Grazie a tutti.